La nascita delle monarchie nazionali europee. Oggi tratteremo nello specifico il tema che il titolo del nostro capitolo ci suggerisce. Stiamo parlando del 1300 e 1400, cioè gli ultimi due secoli del Medioevo, quelli che sono stati chiamati i secoli dell'autunno del Medioevo. Abbiamo già parlato del XIV e XV secolo a proposito della crisi della Chiesa con la cattività avignonese, con il grande scisma e poi il conciliarismo. Abbiamo parlato della crisi dell'impero germanico che dal 1356 si configura come impero elettivo e quindi diviso e frammentato. Abbiamo parlato poi della realtà dell'est europeo con la caduta dell'impero romano d'Oriente, la nascita dell'impero ottomano nel 1453, lo spostamento della Chiesa ortodossa da Costantinopoli a Mosca, che diventa la capitale dell'impero russo già dal 1500, si parla veramente di un impero. Abbiamo visto già la Spagna e oggi veniamo all'argomento centrale di questo discorso per il quale noi diciamo che il Medioevo è il periodo dell'idea di un potere universale, di un'unica res pubblica cristiana, che però entra in crisi in questi due secoli proprio perché si passa da quest'idea all'affermazione dei cosiddetti stati nazionali. Cioè non c'è più un unico impero che racchiude tutta la cristianità europea, ma ci sono delle monarchie nazionali. E quali sono queste monarchie nazionali? Sono fondamentalmente tre. La prima l'abbiamo trattata appunto la Spagna con la reconchista che proprio appunto nel 1492 con la conquista di Granada si configura come uno stato unitario unendo Castiglia e Aragona, ma oggi parliamo di quegli avvenimenti che portano alla definizione di quelle che sono le due più importanti monarchie europee o stati nazionali, cioè la Francia e l'Inghilterra. Come diventano la Francia e l'Inghilterra gli stati che sono oggi? Oggi la Francia ormai è una repubblica, ma l'Inghilterra è ancora una monarchia e tra 1300 e 1400 queste due realtà, queste due monarchie si configurano per come sono adesso, dal punto di vista geografico, territoriale, ma anche dal punto di vista dell'identità nazionale, in seguito a quello che è stato definito nella storia dagli storici il laboratorio dello Stato nazionale, degli stati nazionali, cioè la famosa guerra dei cent'anni. Oggi quindi parliamo della guerra dei cent'anni, che cos'è? È una serie di conflitti che hanno riguardato appunto Francia e Inghilterra, un conflitto tra Francia e Inghilterra che si protrae dal 1337 al 1453, quindi teoricamente più di cent'anni, non è un termine numericamente preciso quello dei cent'anni, anche perché non è stata ovviamente una guerra ininterrotta, ma ci sono state fasi alterne. I regni di Francia e Inghilterra cercano di rafforzarsi ed espandersi ed entrano quindi in competizione. Ora noi all'inizio di questo discorso dobbiamo anzitutto capire quali sono le cause di questa guerra. Chiaramente faremo un quadro molto sintetico, perché già nel corso delle lezioni scorse abbiamo parlato diffusamente di questi due paesi e di come poteva nascere la rivalità tra i due paesi, dal fatto, ricordiamolo ancora, che nel 1066 fu il duca di Normandia, Guglielmo il Conquistatore, quindi un duca di uno stato, di una regione, di un ducato, appunto la Normandia che era vassallo del re di Francia a diventare re d'Inghilterra. Ora in questo discorso delle cause della guerra dei cent'anni dobbiamo distinguere tra le cause vere e profonde, che sono quelle che diremo subito, e invece la causa scatenante, che è quella che poi viene considerata, possiamo dire, tra virgolette il pretesto della guerra, che è un motivo di successione al trono di Francia. Ma in realtà le cause vere e proprie sono profonde e sono legate dalla rivalità tra questi due regni che va avanti già da un po' di tempo. Ecco, l'anno in cui Guglielmo il Conquistatore, un duca di Normandia, diventa re d'Inghilterra era il 1066, noi siamo nel 1337. Ora, qui dice il nostro schema, si apre una crisi di successione in Francia, questo avviene appunto nel 1300. Il re d'Inghilterra controlla dei territori nel sud-ovest del paese e ha pretese sulla corona francese. Quindi abbiamo parlato della Normandia, ma non solo, il re d'Inghilterra possedeva anche dei feudi nel sud-ovest della Francia, anche per questioni matrimoniali. Quindi spesso c'erano questi matrimoni tra principesse, magari francesi e re d'Inghilterra. E quindi i re d'Inghilterra avanzavano pretese su territori francesi. Ma soprattutto, come vedremo, la causa principale è una causa di natura economica, una rivalità economica tra Inghilterra e Francia, dal momento che l'Inghilterra aveva interessi economici in Francia, soprattutto in una regione particolare che ora vedremo. Quindi andiamo a vedere nello specifico schematicamente le cause principali, quelle vere e poi la causa scatenante, che è quella diciamo pretestuosa, della guerra dei cent'anni. Parliamo di due monarchie in concorrenza. Il re d'Inghilterra era vassallo del re di Francia. Perché? Perché oltre a essere re d'Inghilterra, i re, che erano poi della dinastia dei Plantageneti, avevano origine da quel Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia. E quindi tutti i re successivi a Guglielmo avevano ereditato non solo la corona inglese, ma anche la corona, diciamo, o comunque il titolo di duca di Normandia. Quindi questi re d'Inghilterra erano re fin tanto che si trovavano in Inghilterra, ma nel momento in cui andavano in Normandia diventavano vassalli del re di Francia. Cioè i re di Francia, a partire soprattutto da Filippo II Augusto, ce lo ricordiamo, questo re molto deciso, il primo re di Francia vero e proprio, consideravano i re inglesi un po' come dei subordinati, dei loro vassalli. Poi c'era il discorso degli interessi economici che abbiamo detto prima. Chiaramente non abbiamo detto che il re d'Inghilterra rifiutava il fatto di essere vassallo e anzi gli inglesi pretendevano di possedere i territori in Francia proprio perché erano loro feudi. Poi c'erano questi interessi economici fra Inghilterra e Fiandre. Le Fiandre sono questa zona che attualmente è intorno al Belgio dove c'erano grandi attività economiche molto ricche e gli inglesi avevano grandi interessi economici nelle Fiandre. Questa cosa andava a colpire l'economia francese. Dal canto suo la Francia aveva dei rapporti con la Scozia e appoggiava le aspirazioni di indipendenza della Scozia rispetto all'Inghilterra. Quindi c'erano degli interessi economico-politici intrecciati tra Francia e Inghilterra. Gli inglesi rivendicavano la Normandia e il re di Francia appoggiava la Scozia contro il re d'Inghilterra. Queste erano le cause vere e profonde della guerra dei cent'anni. Il motivo invece, il pretesto, se vogliamo, che porta allo scoppio della guerra ha a che fare con una crisi di successione dinastica. Alla morte di Filippo IV, Filippo il Bello, quello stesso re di Francia che abbiamo conosciuto nello scontro con Bonifacio VIII, il trono francese va ai suoi tre figli per poi andare a Filippo VI di Valois, che non era un figlio di Filippo il Bello, ma era un nipote, nel senso che era figlio di suo fratello. Ora però c'era il re d'Inghilterra Edoardo III, plantageneto, il quale rivendica il trono di Francia in quanto aveva sposato l'ultima figlia di Filippo il Bello. E quindi, secondo un principio che in Inghilterra valeva, cioè la successione valida anche in linea femminile, Edoardo III sarebbe dovuto diventare re di Francia al posto di Filippo VI di Valois, che era invece un nipote, cioè di un ramo laterale. Ora questa, diciamo, disputa sulla successione al trono può essere più chiara in questo schema che ci fa vedere proprio la successione e ci mostra i re di Francia in blu, mentre i re di Inghilterra in rosso. Vediamo dunque che Filippo IV il Bello muore nel 1314. Dopo di lui vanno al trono in successione i primi tre figli, Luigi X, Filippo V e Carlo IV fino al 28, 1328. Poi ognuno di questi re aveva un soprannome, ma ci interessa vedere che Filippo IV, il re di Francia, quello importante, aveva tre figli maschi e una figlia femmina, Isabella. Il caso volle che Isabella, come avevamo detto prima, c'erano questi matrimoni incrociati, fosse andata in moglie al re d'Inghilterra Edoardo II e quindi avessero avuto come figlio Edoardo III, che era diventato re d'Inghilterra nel 1327. Nel 1328, alla morte dell'ultimo figlio maschio di Filippo il Bello, Carlo IV, il trono va, come vediamo sulla destra, a Filippo VI, soprannominato il Fortunato, perché ottiene un regno semplicemente per il fatto che erano terminati i figli maschi di Filippo IV e che Carlo IV, l'ultimo re della dinastia dei Capetingi, non aveva figli. Quindi il trono francese viene dato a Filippo VI, che era figlio di Carlo di Valois, a sua volta fratello di Filippo IV il Bello. Quindi Edoardo III che cosa faceva? Rivendicava una successione al trono perché Filippo il Bello era suo nonno, mentre invece Filippo VI poteva dire che Filippo il Bello era suo zio, quindi una parentela più lontana quella dello zio rispetto al nonno. Ora questa questione di successione non viene avanzata subito nel 28, ma viene avanzata nel 1337, l'anno di inizio della guerra. Quindi evidentemente Edoardo III, visti questi conflitti di cui abbiamo parlato fra Francia e Inghilterra, nel 37 avanza questa pretesa. Diciamo anche un'altra cosa che non abbiamo detto. I francesi invece vogliono far valere un principio giuridico che valeva in Francia fin dal Medioevo, che era la famosa legge salica, perché era la legge dei sali, che erano una popolazione antica che aveva dato vita poi al Regno di Francia. E la legge salica prevedeva che la successione al trono fosse valida solo in linea maschile e non femminile. Invece il re d'Inghilterra voleva dire che questa legge salica non valeva più in Francia, non valeva e quindi rivendicava il trono. E quindi scoppia questa guerra che noi possiamo suddividere in, diciamo, alcune fasi, fondamentalmente tre fasi principali. Vediamo in questo schema le prime fasi della guerra, perché c'è, diciamo, per due volte un'iniziale vittoria inglese e poi una rivincita francese. Quindi potremmo dire che noi abbiamo una vittoria inglese, poi una ripresa francese, poi una grande vittoria inglese enorme agli inizi del Quattrocento, per poi, ne parleremo la prossima volta, l'ultima fase, che è quella della riscossa francese che porterà, diciamo, alla vittoria poi francese finale. Inizialmente prevalgono gli inglesi che riescono a fare addirittura prigioniero il re di Francia, che non era più comunque Filippo VI, ma è Giovanni II, un altro re. La forza dell'esercito inglese si basa sugli arcieri. Questo lo vediamo anche nell'immagine, quindi una cosa che caratterizza la prima fase della guerra dei Cent'anni, che va più o meno dal 37 al 60, è la prevalenza inglese grazie a questa forza degli arcieri. La seconda fase poi inizia nel 1369 e durante questa fase i francesi recuperano terreno grazie a tattiche di guerriglia. Andiamo a vedere nello specifico le tre fasi della guerra e ci limitiamo ora a vedere soltanto le prime due. Allora, come avevamo detto, tra il 37 e il 60 abbiamo una prima fase con una prevalenza inglese nelle battaglie di Crecy e Poitiers, soprattutto, sono le due battaglie più importanti, vinte dagli inglesi, che portano poi, che arrivano alla pace di Bretigny appunto del 1360, che pone fine per un periodo al conflitto tra i due paesi, e con la pace di Bretigny c'è appunto una prevalenza inglese perché il re di Francia deve, diciamo, dopo essere stato liberato, in cambio della sua liberazione, deve riconoscere i possedimenti inglesi in Francia. Questa cosa però non sta bene al successivo re di Francia, che è Carlo V, il quale nel 1369, come abbiamo visto con una tattica di guerriglia, si prende una certa rivincita sugli inglesi. Quindi in una seconda fase noi abbiamo una ripresa da parte dei francesi con il re Carlo V, tuttavia alla morte di Carlo V ci sarà il successivo re Carlo VI, che è ricordato nella storia della guerra dei cent'anni per aver avuto problemi mentali, quasi di pazzia, e sotto il re Carlo VI la guerra dei cent'anni vive il periodo più intenso e più drammatico per il regno di Francia. Che cosa succede alla fine del 1300? Succede che intorno al 1390, più o meno, scoppia in Francia una guerra civile. E questa è una cosa importante da sottolineare, perché magari non si dice mai in maniera forte, la guerra dei cent'anni è stata anzitutto e soprattutto una guerra civile francese. Quindi al di là di questi scontri tra Inghilterra e Francia, quello che è importante da dire è che la Francia era divisa, era divisa perché non tutti i francesi riconoscevano nei Valois, perché diciamo subito appunto dal 1337 il re di Francia non è più dei capetingi ma dei Valois, con questo spostamento che abbiamo detto prima, ma i Valois non sono riconosciuti da tutti. Esistono forti componenti della società francese e anche dei feudi francesi che erano guidati dal duca di Borgogna, Filippo Lardito, e quindi una fazione di francesi chiamata la fazione dei Borgognoni, proprio perché erano guidati dal duca di Borgogna, che andavano contro il di Francia e andavano talmente contro il re di Francia, pur essendo francesi, che si alleano con il re d'Inghilterra, pur di spodestare il re di Francia che era Carlo VI. Ora, dall'altra parte invece c'era la fazione degli Armagnacchi, così chiamati perché erano guidati dal duca d'Armagnacchi, quindi è un nome, che invece erano vicini al re di Francia, Carlo VI. Quindi a partire dal 1390 in Francia scoppia una guerra civile tra Borgognoni e Armagnacchi. I Borgognoni erano contro il re di Francia e volevano soprattutto, il duca di Borgogna voleva l'indipendenza del ducato di Borgogna dalla Francia, cioè voleva che la Borgogna restasse indipendente dal regno di Francia. Quindi vedete come questo regno di Francia non si forma in maniera così tranquilla, ma a costo di lunghe e sanguinose guerre e conflitti. Tra l'altro la Borgogna continuerà a cercare di rendersi indipendente dalla Francia anche dopo la fine della guerra dei cent'anni, ne parleremo la prossima volta. E quindi da una parte questa guerra civile vedeva tutti i francesi contro il re, cioè i Borgognoni, e dall'altra gli Armagnacchi, che erano invece coloro che sostenevano il re. Borgognoni e Armagnacchi combattono una guerra civile per molti anni, fino a che nel 1415 i Borgognoni arrivano addirittura a chiedere l'intervento del re d'Inghilterra Enrico V di Lancaster. Chi era Enrico V? Era un re d'Inghilterra che approfitta di questa crisi in Francia per scendere dall'Inghilterra alla Francia con il suo esercito nel 1415 e con l'aiuto di Giovanni Senza Paura, che era appunto il successivo duca di Borgogna, vince una battaglia celebre e memorabile, la battaglia di Asincourt nel 1415. Ora, detto fra parentesi, questa storia, questo evento, viene raccontato anche dal grandissimo poeta inglese William Shakespeare nella sua tragedia Enrico V. E in quella tragedia Enrico V si parla anche di queste questioni giuridiche per cui in Inghilterra si studia la questione della successione al trono, anche se siamo ormai a cent'anni quasi dalla morte, beh, sono 1415, cent'anni dalla morte più o meno di Filippo il Bello, ma in Inghilterra ancora si avanza questa pretesa anche ai tempi di Enrico V, Lancaster. Ed Enrico V viene ovviamente celebrato come un grande eroe da Shakespeare. È il re d'Inghilterra che vince la battaglia decisiva di Asincourt nel 1415 e costringe il re di Francia, Carlo VI, al trattato di Troye, la pace di Troye, con il quale nel 1420 si stabilisce che Enrico V, re d'Inghilterra, sia anche re di Francia. Cioè vengono unificati due regni, Inghilterra e Francia. È un momento storicamente drammatico per la storia di Francia, cioè la Francia è unita all'Inghilterra e il re d'Inghilterra, Enrico V, è anche re di Francia. Ora, dal momento che ci fermiamo per ora su questo punto, sottolineiamo comunque un'altra cosa che anche viene detta da Shakespeare nella tragedia di Enrico V, in realtà Enrico V sposa la figlia del re di Francia, Caterina, e quindi diciamo che il trono di Francia passa ad Enrico V, che è il re d'Inghilterra, ma come consorte della figlia del re di Francia legittimo. Quindi diciamo che è una situazione moderatamente tragica per la Francia. Però, di fatto, noi abbiamo una dinastia dei Valois che deve rinunciare al trono di Francia in favore del regno d'Inghilterra. Quindi non solo i francesi non riescono a conquistare i territori come la Normandia o il sud-ovest della Francia togliendoli al re d'Inghilterra, ma devono riconoscere un re d'Inghilterra sul trono francese. Quindi ci fermiamo per ora nel 1420 e vediamo poi la prossima volta come prosegue la vicenda della Guerra dei Cent'anni e il modo in cui la Francia avrà il suo riscatto con questa grande eroina famosissima nella storia di Francia che è Giovanna d'Arco.